Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Questo è il primo video della serie Le sfide di Dark, questo è il nome che mi avete proposto. Quindi, leggerò immediatamente la sfida che farò adesso. Nella stessa partita farò un'uccisione con la Flashbang, una con XM25 fumogeno e l'altra con l'attrezzo riparatore. Per fare ciò sono andato, ovviamente, su Ferrovia Goalmund perché lì ci sono veicoli per fare l'uccisione con la Flashbang. Riuscirò magari a fare anche quella con l'XM25 e quella con l'attrezzo riparatore. In ogni caso, armiamoci di armi decenti più che altro per difenderci bene. Lui cosa c'entra? Lui se ne deve andare, non c'entra assolutamente niente. Ok, allora, niente, per ora l'unico carro che c'era me l'hanno distrutto. C'è una contraera qua a sinistra, se avessi un veicolo potrei andare, però mi fa più paura il fatto che ora muoio perché c'è qualcuno su sta bandiera. Eccolo, ecco. Come ho fatto? Come ho fatto? Da dove è morto questo? Vabbè, mi corrono. Peccato che tutto ciò non c'entra assolutamente nulla, zero assoluto con la sfida che devo compiere. Ok. Sto cercando disperatamente una jeep. Ok, qua il C4, qua il pacco munizione. Forse ho pure invertito di nuovo le due cercette lì. Dio mio, sto facendo la killstreak anche senza volerlo, eh. Ok, 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 non sa niente, non sa niente, non deve sapere niente, ok. Salto. Salto. Vai, scoppio. Dovevi scoppiare. Eh vabbè, a questo punto posso anche morire in pace, tanto non ce la farò mai. Ovviamente. Il tutto. Due e tre. Io non ci sono, io non ci sono, assolutamente. Ma, ma, ma. No. Devo trovare un veicolo, ragazzi, se no io qua. Uh, c'è una contraerea lì, c'è una contraerea lì. Allora, le contraerea in teoria, in teoria, dovrebbero guardare in alto. Dovrebbero, perché poi è tutta teoria questa, eh. Però dovrebbero guardare in alto. Quindi con un po' di fortuna quella contraerea sta guardando in alto. Quindi con un po' di fortuna riesco a fare questi uccisioni con la flash. Oh mio Dio, ragazzi. Ok. Dissimi di tantissimo, eh. Oh, la contraerea forse. Dai, 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 dai. Ferma qua. È una cosa epica, ragazzi. Fermo, fermo, carretto mio. Io non ci sono. Oddio. Oh mio Dio, ragazzi. Vi giuro. Continuerei tutto il giorno. Uh, 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 carino. No, 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 non scappare. Nooo, non ce l'ho fatta Sfida fallita Dai, ci riprovo un'altra partita che se no Mi sembra poco corretto se no Ok, dai, vediamo Vediamo se ci riesco nella seconda partita Fermo, carro mio Fermo, io non sono mai esistito, eh Te lo ricordo Scherzo Scherzo Mi stai prendendo in giro, spero Fanculo Che idiota Preso Idiota Ok Rischiera E prendiamo l'XM25 Dai, dai, devo essere scattante, veloce Ma io non lo perdonerò Non gliela farò passare liscio No, no, no È impossibile sfidare qualcuno con questo coso No, fermo, fermo, fermo Sì Sì Sì, ok Dai, dai, dai Che ce la faccio Dai che ce la faccio Stta partita ce la faccio Ok Non dire stronzate, Gunner Non dire stronzate Tu non lo sai ma ora muori No, l'ho disattivato No 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 Assistenza No A nord della tua posizione attuale C'è un'indicata ravvenito Scherzo Assolutamente No C'era lì quello Potevo uccidere Perché? Perché me la prendo sempre con i carri? Sono più grandi di me Mi schiacciano No Scherzo amico mio Quanti me ne ha mancati No Dai Era la mia uccisione quella No No Ragazzi No Che ingiustizia Che ingiustizia Tutta questa fatica per niente Questa sfida Io la proclamerei fallita Perché non sono riuscito a fare l'uccisione con l'attrezzo riparatore Che è la più facile delle tre Ragazzi Vi chiedo gentilmente di lasciare un like qua sotto Di E adesso deve finire la partita Proprio mentre devo dire tutte le Le cose belle del canale Allora Vi chiedo gentilmente di lasciare un like qua sotto Di commentare Nella descrizione Sì Di commentare nella descrizione Di lasciare un commento Con scritto Con scritta la prossima sfida da fare E Ovviamente Di iscrivervi al canale se non siete iscritti Fra l'altro Ringrazio molto Diego Casanova Che è stato così gentile Da propormi questa sfida Vabbè Dai Noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao